Come non una di meno riteniamo inaccettabile che nel 2019 venga proposto di nuovo la lettura del tema della natalità e della denatalità solo in termini di natura riproduttiva, per cui solo come le donne che non fanno abbastanza figli, come se il problema fosse la legge 194 che tutela l'autodeterminazione femminile. Non possiamo accettare che il Consiglio delle donne di Bergamo abbia organizzato questo evento insieme al Centro di Aiuto per la Vita, che è una delle emanazioni del Movimento per la Vita, che da anni si batte affinché il diritto all'autodeterminazione femminile, il diritto sancito dalla legge 194, venga decisamente indebolito attraverso la figura degli obiettori di coscienza e attraverso delle strutture sanitarie che ancora non garantiscono a tutte le donne l'accesso a questo diritto fondamentale. Siamo convinte quindi che il Consiglio delle donne debba necessariamente fare autocritica, debba necessariamente fare una riflessione e debba fare un passo indietro sull'organizzazione di questo evento. Con l'incontro dell'1 febbraio, che è stato indetto dal Consiglio delle donne di Bergamo, non è stato assolutamente fatto questo. C'è stato detto che questo evento ormai è stato organizzato e quindi ormai verrà assolutamente fatto. Per noi questo non è accettabile e quindi chiediamo la cancellazione di questo convegno, a cui tra l'altro parteciperà Paolo Picco, che è uno dei presidenti di Federvita Lombardia, che è appunto una delle associazioni del Movimento per la Vita che si batte proprio contro la 194. Chiediamo quindi la cancellazione, chiamiamo in causa anche il Comune di Bergamo, che nell'ultima sua seduta del Consiglio Comunale ha approvato due ordini del giorno, una mozione contro il DDL Pillon, che va appunto nella direzione invece della visione della donna come madre e un altro ordine del giorno a favore della campagna Aborto al Sicuro. Un Consiglio Comunale che esprime queste opinioni è per noi un Consiglio Comunale che vede la 194 come un diritto inalienabile della donna e quindi è un Consiglio Comunale che deve prendere una posizione contro questo convegno organizzato dal Consiglio delle donne di Bergamo. Chiediamo quindi tutte queste cose e le chiediamo convinte che come Movimento Nuna di Meno rappresentiamo le donne di Bergamo che sulla natalità e la denatalità hanno tanto altro da dire. Natalità e denatalità sono una questione di diritti, sono una questione di lavoro, sono una questione di opportunità e di sicuro non possono essere ridotte a un discorso di natura riproduttiva o addirittura contro la 194. Se il convegno non verrà annullato ci troveremo come forma di protesta il 9 febbraio a partire dalle 8.30 in via Tasso sotto la sala Galmozzi che è dove il convegno verrà ospitato proprio perché come Nuna di Meno siamo in uno stato di agitazione permanente.